Un disastro a largo della Dirmania, una nave si schianta sugli scogli. Una tempesta ha colpito l'intera aria del mare delle Andamane. L'equipaggio della portacontainer Sinaran Andaman ha perso il controllo della nave che si è schiantata sulle rocce. Tutte le persone che si trovavano a bordo della nave sono state tratte in salvo.